18 articoli per prepararsi al peggio. Via libera della Camera all'unanimità al decreto Brexit che punta a regolare la fase transitoria se non dovesse esserci un accordo tra Bruxelles e Londra. Dai deputati un voto unitario per dare maggiore consistenza alla risposta per limitare i danni e garantire la stabilità e integrità del sistema finanziario. Si va dalle banche britanniche che sono nel nostro paese circa 70 ai cittadini del Regno Unito che risiedono in Italia che potranno chiedere permessi di soggiorno validi fino al 1 gennaio 2021. Per quanto riguarda invece i cittadini italiani che vivono in Gran Bretagna le autorità di Londra sarebbero pronte ad un trattamento di reciprocità. Le misure approvate oggi arrivano a meno di due settimane dal voto europeo. Partecipa anche la Gran Bretagna in quanto la Brexit è slittata al 31 ottobre con gli indipendentisti di Farage in vantaggio nei sondaggi. Berlusconi invece chiede un accordo dei popolari europei con Salvini e Orban, una risposta al leader leghista che è aperto al dialogo con Forza Italia dopo la sconfitta nei ballottaggi in Sicilia che hanno visto invece il successo dei 5 Stelle nei comuni di Caltanissetta e Castelvetrano.